FALLOUT NEW VEGAS In vostra assenza mi sono esplorato un pochino di zone, un po' di lande desolate Ma vaffanculo, manco l'attesa e la suspense che vi ho dato È impossibile, è impossibile È possibile Allora, perché sono qui e perché ho un revolver? Allora, in vostra assenza sono andato, vabbè, a esplorare qualcosina qua e là Ma perlopiù siamo stati a Novak Novak perché dobbiamo adesso ritornare Dato che comunque in partenza la missione che abbiamo fatto nello scorso episodio Era per il cecchino che fa il turno di giorno, il nostro Manny Dobbiamo parlare con lui Io mi sono fatto dare la stanza, no What? Victor? Ehi, amico Cosa ci fai a Novak? Non lo so esattamente Sapevo solo di dover andare a New Vegas Credo che lo scoprirò quando ci arriverò Non è molto strano, raga, Victor Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di sto robot È molto vago nelle risposte Cos'è successo a questo posto? È proprio una coincidenza incontrarci così Visto che questa è l'unica strada nei paraggi Sarei molto più sorpreso se non ci fossimo incontrati Beh, tecnicamente Mi fa piacere vedere una faccia nuova Sempre se hai una faccia Anche per me C'è qualcosa che il vecchio Vic può fare per te? Non mi dispiacerebbe avere un letto, un po' di rifornimenti Hai detto che gli uomini che mi hanno attaccato stavano andando in questa direzione, giusto? No, non credo di averlo detto Ma puoi chiedere in giro Alla gente di Novak di solito non sfugge qualche viso nuovo Potremmo fotterlo Va bene Starmi alla larga, robot No, vabbè, addio Niente, Victor è molto strano Comunque, mi sono trasferito qui a Novak E praticamente Ah, guardate, raga Guardate chi c'è a terra qua Chris, quello che abbiamo freddato Il dottore Non so perché si è trasferito a Novak Ma è nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo lasciato Assurdo E la nostra casa sarebbe questa qui Abbiamo questa stanza Eccola qua Questa è casa dolce casa Allora, io qui ho sistemato il mio guardaroba E ho messo un paio di oggetti qui Come vedete Stiamo andando per adesso con la tuta spaziale Che tra l'altro ho visto che dà resistenza alle radiazioni E addirittura è più forte della tuta antiradiazione Perché come vedete questa ti dà 4 di corazza e 30 di resistenza Mentre questa qui ti dà 40 di resistenza e 10 di corazza Per soli 2 kg in più Quindi praticamente OP Abbiamo preso un'armatura in pelle rinforzata Questo vestito così Perché io ero andato un pochino in esplorazione Dovevo posare ste robe In più, qui a Novak Ho fatto una missione di aiutare alcuni coloni Precisamente quella casa lì Perché diceva che la notte, intorno alla mezzanotte Arrivava qualcosa a uccidere i bramini Però non erano lacerazioni un animale Ma li trovavano pieno di buchi E quindi alla fine sono arrivato lì a mezzanotte E alla fine era un super mutante che uccideva i bramini Super mutante che mi ha lasciato una cazzo di minigun Mitragliatrice a canne rotanti In condizioni pessime Però ce l'abbiamo Poi abbiamo trovato una revolver calibro 44 Che è quella che usiamo Che è più forte della calibro 357 Io per adesso le poso tutte e due Dobbiamo ripararci questa Ho preso una mod per il lancia Per il fucile laser E uno splitter a raggi Poi abbiamo preso un fucile a colpo singolo Io per adesso ste robe le sto posando E mi riparo la pistola laser e la poso pure Anzi sai che ti dico Il fucile a colpo singolo lo vendo Pistola laser la poso E la revolver a sto punto vengo Cioè vendo la La 357 Poi un'altra roba che volevo farvi vedere E vabbè qua tengo le munizioni Che per adesso possiamo praticamente posarle tutte Tranne la microfusione Perché è quella che usiamo Qua tengo tutti gli oggetti vari E adesso andiamo da questo stronzo qui A vendere un paio di cose Questo bastardo qui vende un sacco di armi Raga potentissime Costano un sacco di tappi Però vende belle cose Allora ci vendiamo il fucile a colpo singolo 22 tappi e il mattarello E pure la revolver Se andiamo qui su armi Guardate che cazzo vende raga Difensori al plasma Te armi strane raga Guardate qua Pacincia Pacincia Andiamo nella bocca del dinosauro Vediamo se c'è menne Eccolo qua Qualche sviluppo per i ghoul? Conto su di te Allora i ghoul non sono più a Repcon Davvero? Si Si Guadagnata un buon presentimento su di te Sembra che tu ne abbia passate tante A proposito dell'uomo che sto cercando Dai dammi informazioni ora Figlio di puttana Ok ti dirò tutto quel che so Come promesso Bravo Il tizio che stai cercando Benny era in viaggio con alcuni Della mia vecchia banda Stavano andando a Boulder City Oh Boulder City Dove cazzo si trova? Da qui ci si va direttamente seguendo la route 93 Basta che continui a seguire la strada verso nord Perfetto E hai qualche idea perché siano andati di lì? Non ne ho idea So che Benny non aveva ancora finito di pagare Forse era lì che dovevano saldare i conti Allora Bon Possiamo domandargli chi è Bon Attenzione perché Bon è un personaggio importante Probabilmente faremo la missione sua oggi E poi andremo verso Boulder City Allora Bon praticamente non è altro che l'altro cecchino Che fa il turno di notte Quindi lui chiude e c'è questo cecchino Io ci ho parlato ma non ho approfondito la cosa Perché volevo farlo con voi E mi ha detto che pretende Non mi ricordo se erano dei predoni Insomma hanno rapito O forse ucciso Non mi ricordo La sua ragazza Nel turno esatto in cui si dava il cambio con Benny Quindi lui sospetta che sia coinvolto qualcuno Insomma Perché era studiata questa cosa Possiamo domandargli chi è Bon Vediamo che rapporto hanno infatti Boone è un tiratore scelto Proprio come me Facevo gli avvistamenti per lui Quando eravamo con la RNC Dopo che ne siamo venuti fuori L'ho convinto a sistemarsi qui E così Eccoci qua Te lo presenterei ma Non siamo in ottimi rapporti al momento Perché non sei Perché sei in cattivi rapporti con Bon Io e sua moglie abbiamo avuto dei disaccordi Su alcune cose Abbiamo litigato abbastanza pesantemente Un giorno salta fuori che è scomparsa E lui non mi parla da allora Beh di tutto e di più Vedi sono cresciuto in North Vegas Io e i miei cugini Eravamo teste calde Ci siamo intrippati con una banda Mi sono divertito un mondo Poi è successo qualcosa E non ce l'ho più fatta Così mi sono arruolato Mi sono guadagnato un futuro Ho portato il mio migliore amico A dividere quel futuro con me Ed ecco questa donna Che si sentiva superiore A cercare di portarmelo via Così ecco Non ero completamente d'accordo Con quella stronza Beh raga questo potrebbe essere un movente Idolatrato Famoso per la buona volontà E l'ampio sostegno che dai Ci amano alla grande qui Diciamo che questa sua amicizia con Bon Così stretta E in più Lui sospetta della moglie scomparsa E lui la odiava Potrebbe essere un movente Per cui lui avrebbe potuto Far rapire sua moglie E farla uccidere Per avere poi Bon Tutto per sé In più sono entrati in queste case Dove abbiamo trovato Un vecchio veterano Dell'RNC Dove semplicemente Parlando un po' con lui Grazie alla nostra eloquenza Siamo riusciti ad ottenere Una tecnica di difesa Che ci ha insegnato Praticamente qualcosa Per disarmi Se vado a fare Mi pare la parata Buongiorno Mentre vado indietro Se faccio la parata Mentre vado indietro Dovrei riuscire a buttare A terra i nemici Adesso non mi ricordo Come funzionava Ci hanno dato una nota Cecchino notturno Manny Vargas ha detto Che c'è un altro cecchino Chiamato Bon Che lavora di notte Nella bocca del dinosauro Ok Io direi di aspettare qui Così aspettiamo Il turno di notte Sono le 5 del pomeriggio Aspettiamo tipo 8 ore Perfetto Sono l'una e mezza di notte Qua c'è Manny Che sta andando a casa Buonanotte Manny E in teoria Là sopra c'è Il nostro Bon Guardalo lì Ok allora Ti fidi solo dell'esame Stai cercando di rintracciare Tua moglie Mia moglie è morta Voglio il figlio di puttana Che l'ha venduta Che cosa faccio Se trovo questa persona Portalo fuori Qui davanti al covo Mentre sono a lavoro Lavoro di notte Ti darò il mio berretto Dell'RNC Da metterti Sarai il nostro segnale Così saprò che sarai con lui Perfetto Mi preoccuperò del resto Devo farlo da solo Farò in modo che non ti penta È pelato E un'altra cosa Non dobbiamo più parlare Fino a che non sarà finita Nessuno in città Sa che sono al corrente Di quello che è successo A mia moglie Sarebbe meglio Che non lo venissero mai a sapere O dopo di me Toccherà la legione Allora signori Qua dobbiamo vedere Di fare questa missione Nel migliore dei modi Senza fare cazzate Uno per la mia piccola Allora Opzionale Cerca nuova che informazioni Sull'autore Manda qualcuno davanti A Dink il dinosauro Mettiti il berretto Ok Allora intanto Mettiamoci il berretto Signori Perfetto Questo è il nostro berretto Incredibile Fatti vedere Gina Guardalo lì Intanto direi di parlare Con la gente E vedere cosa ne pensano Anche se il sospettato Secondo me È proprio Manny E questa è la sua stanza Attenzione L'ho indovinata Manny Cosa succede amico? Chi potrebbe voler Far del male Alla moglie di Boone? Beh tutti Quella ragazza Non aveva un solo amico In tutta la città Non ne voleva Voleva stare tutto il giorno Seduta nella sua stanza A compiangersi E ha fatto l'impossibile Per essere scortese Ha fatto arrabbiare Un sacco di gente Non sarebbe piaciuta Neanche a te C'entri qualcosa Con la sparizione? Credimi Quando l'ho sentito dire Il mio primo pensiero È stato Ho un debito con qualcuno È grosso Immaginavo Che si sarebbe presentato Boone dopo un po' Ma non l'ha fatto E inizio a pensare Che se non la trova Le cose non torneranno Più come prima Allora Vieni con me Potrei far uccidere lui Raga Però secondo me Non è colpevole lui Perché se fosse colpevole Diciamo che Lo dimostrerebbe No? Magari negherebbe la cosa Direbbe Sì Era una bravissima persona Invece proprio Lo ammette palesemente Che comunque Li stava sui coglioni Però non penso Avrebbe fatto una cosa simile Io la penso così Raga Però qui c'è un terminale A casa sua E magari Non lo dice a noi Ma Ma qua c'è scritto Bene Hai fatto la scelta giusta Ospitandoci Mantenendo la situazione Con calma Questo ragazzo in città Benny è nervoso Oh guarda Si conoscevano proprio Vabbè lo sapevamo Ma qua c'è pure una nota Da quando abbiamo rubato Quel pacco del suo capo E questo mi rende nervoso Da morire Mentre eravamo diretti A Boulder City Ero sicuro Che avremmo potuto Contare su di te Lasciano dire Gli altri can È quello che vogliono So io Dov'è la tua lealtà Un giorno ti ricorderai Da dove vieni E i tuoi fratelli E sorelle Ci riaccoglieranno Inchia raga Però lui Fa parte Fa parte dei can Ed era nella banda Di chi ci ha sparato Non è il massimo Sta roba Non è il massimo Raga Manny è uno È uno che non mi piace Al cento per cento Ma non ne siamo sicuri Ancora Quindi non possiamo Fare niente Vediamo qua la signora Daisy Whitman Questa era un pilota Di Di Wurtbird I tuoi viaggi Sono Eri un pilota No Lei non è tra i sospettati Non possiamo nemmeno Accusarla O domandargli qualcosa Quindi lei non c'entra Vediamo qui Ah ma posso fottere il mondo Qua Leva per il freno D'autocicleta Ste robe mi pare Che servono Ma raga Io lutto tutto Perché Cioè male che vada Le vendo Ste robe Sti cazzi Allora parliamo con lui Ah ti prego Non uccidermi Giuro che Aspetta tu Tu non lavori Per il signor Bishop Vero Chi mica è Bishop Bugia Sì E ora tocca a te Soffrire Cosa te lo fa credere Scusa Solo che Sembra il suo tipo Capisci Hai quell'aria Da esploratore Inflessibile Della zona contaminata Ma vai a cagare Sei mica quel cantante Di Nuova Reno Mi sembra di averti visto Suonare il clave Da quelle parti Perché hai questo Signor Bishop Sulle tue tracce Oh beh È solo un enorme malinteso Tutto qui Certo Il signor Bishop Ecco Mi doveva un sacco di soldi Sai com'è È un tipo piuttosto impegnato Quindi ho pensato di Riprendermeli da solo O l'hai ucciso O l'hai ucciso O l'hai derubato Rapina È una parola così brutta Ah era il capo del casino In realtà Mi sono solo occupato Di un problema Di pagamenti Per conto suo Inoltre Potrei essermi Eh Diciamo Fatto sua figlia Eh vabbè Sei nella merda Tanto di cappello Però Eh ti farò sapere Se dovessi trovare Un lavoro per un cantante Lo faresti davvero Grande Grazie infinite Ah è pure felice Mabbè lui non penso Comunque c'entri Comunque stiamo trovando Bei materiali Quindi qui non c'è Nessuno di sospettato Mi viene un dubbio Raga Mi viene un dubbio Però facciamo una roba Sediamoci sul divano Qui E aspettiamo L'alba Sono le 3 Siamo le 4 ore Alle 7 di mattina Ci svegliamo Perché volevo vedere Con lei Jenny Praticamente è Diciamo il capo Di questa comunità La persona più amata Non vorrei che sia Proprio lei coinvolta Perché lei Ad avere i contatti Spero che sia Cosa ne pensi Della moglie di Bon Come dirtelo Immagino Si potrebbe dire Che sia una specie Di fiore di cactus Molto bello A guardarsi Ma meglio Non avvicinarsi Non si è mai Voluta trasferire A vivere qui Le piacevano le luci E la frenesia Di New Vegas Ah una stick chiusa Avevo la sensazione Che stesse cercando Di convincere Boone Ad andare a vivere Con lei Ma immagino Che si sia Stancata Di aspettare Cos'è successo In città ultimamente Allora vediamo Ha perso i bramini Questo l'avevo fatto Andy ci ho parlato Sono stati E quindi anche lei Ma lei no Questi sono dei mercanti Fammi vedere Vediamo se ho delle cazzate Da venderle A sta stronza Ma le ho venduto Quattro cazzate Ragazzi mi sono fatto Un po' di colpi Comunque Nei banchi Possiamo fare i colpi Mamma mia Ma qua ci sono armi Pazzesche Nei banchi da lavoro Possiamo farci pure I colpi potenziati E adesso che siamo Idolatrati E qui No ancora mi compare ruba Nonostante tutto Non posso prendermi Ste quattro cazzate qua Devo rubarmele di notte Potremmo andare così A occhio Ragazzi Ma non lo so Questa è la dottoressa Lì c'è la casa Di quello lì Tutto paranoico Può essere Cos'è successo Qualcuno si No Lui Lui era coinvolto Nella storia dei bramini Ragazzi Vi anticipo questo Lì c'è una famiglia Che si fa i cazzi suoi Che è quella A cui hanno ucciso i bramini Beh a sto punto Ragazzi Mi viene da pensare Allora O il venditore Oppure il mercenario Cosa sei dirmi Della moglie di Bon Possiamo dirglielo però Carla era uno schianto Ogni volta che Bon Usciva con lei Aveva sempre un sorriso Da ebete sulla faccia Come se non riuscisse A credere alla sua fortuna Lo so Ma quella Non era l'unica ragione Che la rendeva diversa Quella ragazza Non ha mai misurato Le parole Se avessi avuto Ospitalità O cibo migliori Non l'avrebbe certo nascosto Il problema Era chi di solito Li aveva Non credo Che ne avesse intenzione Era una ragazza Molto dolce Penso Che volesse Semplicemente Ricordare a se stessa Che al mondo Esistono ancora Posti migliori di Novak Chi potrebbe Miasimarla Allora Sta roba Può essere un po' Strana Perché comunque Lui è l'unica persona Che ne parla bene Controllo Stazione Mercenari Charlie Il mercenario Andy spera di sapere Qualcosa in più Su Ma qua C'eravamo andati Eh vabbè Poi possiamo farla Sta roba C'eravamo andati Nella stazione Se non sbaglio Dove quelli lì Ci sono arrivati I rifornimenti A sto punto Parliamo con lui Cosa sai dirmi Sulla moglie di Bon Non parlavamo molto Bon effettuava Gran parte degli acquisti Per loro Un tempo era al negozio Ma non c'era stata molto Ok Aveva la faccia di una Che ha sentito Uno strano odore Ma per quel che mi ricordo Il negozio aveva lo stesso Normale odore di sempre Ma qua non possiamo fare molto Raga E Non ci hanno dato Diciamo Informazione Vediamo se trovo qualcuno Qua sulle case Eventualmente Vi skip Niente di particolare Non vorrei Che magari Sono stati loro Quando gli hanno uccisi I bramini Magari pensavano Che era la moglie di Bon Perché era un'antipatica Comunque Vediamo lei Quel cecchino Sembravano felici insieme Sembrano brave persone Lei non sa nemmeno Che è scomparsa Signori Il sospettato Dovrebbe essere Manny E dato che Manny Comunque sapeva Di Manny Che quello che ci ha sparato A noi Era nei Great Khan Faceva parte Nella stessa banda Diciamo che Manny È quello che sembra Più Più un bastardo Ecco tra gli altri Nel frattempo Io mi sono svuotato Quindi a sto punto Raga Io dormirei Per Fino all'orario Di notte Quindi per Tipo 19 ore Di sonno Così Ok E a sto punto E a sto punto Andiamo a casa Di Manny E lo portiamo fuori A parte che lui Magari Dato che è un cecchino Ci dà il suo fucile Cosa succede? Ma non posso portarlo lì Come minchia è possibile? Non capisco perché Non posso portare Manny fuori Ma mi sembra strano Che non possiamo parlargli Cosa succede? Ma Io Non lo so Raga A sto punto Parlerei di nuovo Con Bon E gli diciamo Che non abbiamo trovato niente Non riesco a capire Chi potrebbe essere Il sospettato Bon Non dovresti essere qui Mi ripeti cosa devo fare? Vabbè me ne vado Ah forse non posso Perché lui non è ancora Sulla torre Raga Adesso che lui ci sta andando Forse adesso posso Vediamo Riandiamo da Da Manny Manny Cosa succede? Ok Vieni con me Allora signori Dai guardiamo il lato positivo Freddando lui In ogni caso Riusciamo a A prendersi il cecchino Guardiamo il lato positivo Lui è lì Quindi io lo porto davanti Alla bocca del dinosauro E lui lo fredda Wow raga Guardate che cazzo Di ambientazione Mamma mia Che è spettacolare Raga New Vegas Pazzesco Io spero che molti di voi Apprezzino Quello che cerco di farvi capire Diciamo Di questo gioco Guardate Guardate Oddio Minchia Berretto 1 Ricognitorio Fuggire da caccia Dammelo Mantidi alla griglia Munizioni Un olo nastro aveva Perfetto Perfetto Andiamo da Bon Ma prima di parlare Con lui un attimo Fatemi ascoltare L'olo nastro Dove cazzo è sto L'olo nastro Oggetti Ma non ce l'abbiamo Boh Basta quindi Come lo sapevi La sua storia Volevo solo ucciderlo La sua storia Non era convincente Dai Non avevi alcuna prova Era l'indizio Che più si avvicinava Ad una prova Dannazione Non avrebbe dovuto essere Una supposizione Non potrebbe aver fatto Un maledetto bel niente Fuori Non voglio vederti mai più Stai lontano da me Dannazione A ti cazzare Mamma mia Dio mio Capita Dai Stava sui coglioni Almeno guadagni di più Dato che non puoi fare più i turni Ora fai i turni Giorno e notte Sti cazzi Fammi vedere sto fucile da caccia Con il bonus Occasione Colpi l'età Ah ma non hai il mirino Vaffa Però non sembra male Come arma Ce la portiamo dietro Questa qui Poi abbiamo il berretto Questo qui Che ci dà la percezione E la percentuale Di colpi critici Che non è malvagio In caso usiamo questo A sto punto Abbiamo ottenuto Diverse informazioni Sono andati di lì Abbiamo adesso Una nuova meta Dobbiamo andare a Boulder City Che si trova esattamente Lungo la strada nord Praticamente qua Possiamo trasferirci In questo Rifornimento Che avevo esplorato Tra l'altro Forse da dove Abbiamo iniziato L'episodio Esattamente E da qui proseguire Per questa strada Fino a Boulder City Se trovassimo Un mirino Per il fuggire da caccia Avremmo un cazzo Di cecchino Per curiosità Che calibro Utilizza il fuggire da caccia Il 308 Però in buone condizioni Ragazzi Cioè un signor Fuggire da caccia Oh lì c'è un fuoco da campo Ma non abbiamo Mi sa niente Da poter cucinare Ma è pieno di formiche Di fuoco Queste sono quelle di fuoco Signori Minchia L'ho freddata male Aia Eh vabbè Ma è una bestia Ragazzi Il fuggire da caccia Sunset Sarsaparilla Il solitario Ragazzi Guardate che bello Accampato qua Con la chitarra Quanto cazzo è bello Ragazzi Buon uomo Signorina Signorina Cuggetto suono intanto Qual è la tua storia Estraneo La mia storia è lunga Amico E non posso dire Che sia particolarmente Interessante Ah Nonostante tutto Mi interessa Ok d'accordo Non importa Quella che hai È proprio una gran chitarra Ah Dici questo Beh Grazie amico Questa chitarra È praticamente L'unica cosa Che mi resta di papà E da molto che giochi Praticamente Da tutta la vita Da quando papà Ha abbandonato me e mamma Per bagare nella zona contaminata Uh vabbè Niente una persona strana Raga Lui ha la chitarra Suo padre l'ha abbandonato Per viaggiare Così piccole storielle Che incontriamo In giro per il deserto Del Moave Quanto cazzo è affascinante Sto gioco Da 1 a 10 Raga Tipo 15 Che bello Raga Che bello Tra l'altro ho messo Un'abilità ragazzoli Per aumentare il nostro peso Salendo di livello Adesso infatti Trasportiamo 260 kg E ci voleva Sta roba Ci voleva Questa è la route 93 Perfetto La strada è giusta Boulder City Guardalo lì Dobbiamo andare a destra Proseguiamo il nostro viaggio Con la nostra Gina Bartolini Che non ha paura Di affrontare Le ingiustizie Della zona contaminata Perché noi dobbiamo Oddio Lì c'è un campo dell'RNC Vada Andiamo a darci un occhio Già che siamo di passaggio Magari ci danno Qualche info In più Su Boulder City Eccoci qua Signori Base commerciale 188 Perfetto Buongiorno Michelle Come stai? Tutto bene? Samuel Buon torno Pure a te Veronica Buon torno Mamma mia Veronica Non ti puoi guardare Buongiorno Buongiorno Signori Ma non da niente Bello sto posto Raga Qualcosa del genere Se un soldato dell'RNC Lavori per il prospettario Fammi vedere cosa hai da vendere Fucile da battaglia Oh vabbè 2089 tappi Fucile da ordinanza Questi li usano Motosega Ma quante cazzo di armi ci sono Che non mi ricordavo Raga Vi giuro raga Non mi ricordo se c'erano Perché c'è Tra parentesi AGR Che non so per che cosa sta sta roba Però sono tutte nuove Vedi Pistola calibro 5.56 Pugno potenziato Si lo conosco A meno che ha AGR Perché sono al massimo Raga Di condizioni Perché se notate Tutte queste qui Così sono nuove Ma non lo so Elmo in metallo Guardate che bello Questo sarebbe figo Adesso risparmiamo i tappi Dovremmo mettere Delle abilità Magari per avere Qualche sconto extra Allora Veronica Senza offesa Ma hai l'aria Di chi ha viaggiato A lungo su pessime strade Da dove viene Da Good Spring Che alla tomba Potevo scegliere Allora non è stata di strada Io non ci sono mai stata Ma ho incontrato Dei commercianti Che passano di là Beh benvenuto Allora Io sono Veronica Vivo in una buca Nel terreno Oh bellissimo Bah un bunker Se vuoi dettagli tecnici Un vault Secondo me suona Più interessante Come lo chiamo io Ma non ci sto Più tanto adesso Di solito Sono qua fuori A cercare cibo E rifornimenti Per la mia famiglia Ok Qualsiasi cosa occorra Ottimo Quindi lasci la tua famiglia Nel bunker Sì Non mi preoccupo Sanno gestirsi da soli Ma qualcuno deve pur procurare Le provviste Giusto Ed effettivamente Di questi tempi Penso che preferiscano Comunque avermi qua fuori Ma questa è tutta Un'altra storia Oh Allora Senti Posso chiederti qualcosa Sul livello Ah Vai avanti Ho avuto una piccola disputa Con questo gruppo Che si autodefinisce Confraternita d'acciaio Gente piuttosto strana Ma Sai niente di loro Ma io non so Se la confraternita d'acciaio C'è su New Vegas Io non ho mai trovato Un'armatura atomica Qua Non so neanche se ci sono Intelligenza 6 Normalmente non sono pericolosi A meno che non usi Una tecnologia avanzata Vicino a loro Beh questo si Lo sappiamo La confraternita d'acciaio È alla ricerca Di vecchie tecnologie Prebelliche Beh Quello non dovrebbe essere Un problema per me Non posso permettermi niente Del genere Dai Veronica Che simpatica Ehi Allora dove sei diretto Eh vuoi venire con me Overdam La strip Sto andando a vedere Un vecchio amico Vago semplicemente Da un posto all'altro Ovunque ti porti il vento Esatto Mi piace Come una bannera Mantiene alto l'interesse Sarò sincera Sei la prima Che incontro qui fuori Che sembra davvero In grado di occuparsi Di se stessa Grazie Ci sono posti In cui non sono mai stata Che sarebbero Troppo pericolosi Per me da sola Che ne dici Forse potremo viaggiare insieme E aiutarci a vicenda Oddio Ma non hai una famiglia Da sfamare Non mi sembri molto Cos'hai da offrire No vabbè Non voglio nessuno di Dove speri di andare Oh da nessuna parte Da nessuna parte in particolare Spero solo di vedere Altre parti del mondo Ok Voglio vedere come i diversi Gruppi si sono adattati A sopravvivere nel Mojave E se c'è qualcosa Da imparare Beh viaggiamo insieme Attenzione Questo si che è parlare Prima devi sapere una cosa Cosa Ti ho chiesto della confraternita Perché ne faccio parte No Lo so Lo so Ma dovevo sapere Come avresti reagito Quando te lo dicevo Ci siamo fatti un sacco di nemici Oddio Ti va ancora bene Portarmi con te Ma se me lo dici così È che ho fatto il personaggio femmina Mi dispiare Non posso trombarti Perché tu sia onesto con me D'ora in poi Va bene Certo Basta che non mi chiedi mai Se i tuoi vestiti ti ingrassano Ma vai a cagare Grazie per aver dato Una possibilità Un'ingenua ragazzina californiana Piena di sogni E speranze E con un guanto pneumatico sulla mano Mettiamoci in marcia Ok Perfetto Quindi Veronica è con noi adesso No vabbè Grande Veronica Non ci credo Io non ho mai avuto un compagno Un vestito Possiamo dargli vestiti Che bello Sprettiti gli occhiali Come si equipaggiano No Ah li mette in automatico Uh vabbè Ma sei No 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 Togli questi occhiali Togli questi occhiali Mi stai facendo portare la roba pesante eh Ah beh Fanculo Un paio di occhiali ti ho dato Non rompere i coglioni E poi qua c'è Samuel Samuel Alzati Su su Forza alza il culo Benvenuto al 188 Slope Hai bisogno di riparare qualcosa Mi piacerebbe vedere cosa Ah ok Sono tutti dei mercanti Va bene Bene a sto punto si viaggia Quindi la confraternita c'è Lei se ne è andata dalla confraternita Chissà per quale motivo Lì ci sono dei mercanti E questa dovrebbe essere Boulder City E io ho 7 Vediamo Ah tra l'altro aspetta Che mi hanno dato una missione Cioè un'abilità Assistente scriva Quando la compagna è Veronica Il giocatore può creare oggetti Per il banco da lavoro Attraverso il dialogo di Veronica Vediamo i nostri effetti Abbiamo denutrizione Disidratazione Vaffanculo Dobbiamo mangiare raga Mangiamo la carne di formica di fuoco E dovremmo essere a posto Questa penso sia la stazione di Boulder City Passiamo prima dalla stazione Vediamo cosa c'è Non vedo niente qui Stazione di Boulder City Che cazzo sei? Oddio Fatto fatto Vai tranquilla Ci penso io sono un grande Non aveva nemmeno la ghiandola questo C'è un terminale medio Non posso E aprirà sicuramente la cassaforte Va bene A sto punto andiamo verso Boulder City Dai Ci sono diversi edifici Non sembrano interagibili Almeno questo no Questo si Bigorn Saloon Buongiorno Oh un tappo con la stella blu Godo Minchia di tappi Però è rubo Ma vaffanculo Ike Un cliente Non viene molta gente a Boulder Va bene Fammi vedere cos'è Raccontami di Boulder City La maggior parte della città è in macerie L'ho notato E l'unica altra cosa che c'è qui intorno È l'area di miscelazione del cemento Ok L'area di miscelazione del cemento Tieni Tieni sti soldi dell'RNC Ci facciamo 120 tappi Raga 120 tappi Ok Ci ha aggiunto Da dove viene il cemento Nella mappa La zona Grazie mille bro Gentilissimo Si può andare qui No Madonna che mi baggo Veronica Perfetto abbiamo ottenuto informazioni Vedete come bisogna giocarselo Fallout Con calma Parlare con la gente Scoprire cose Farci le nostre idee È un gioco molto chill Raga È un gioco tranquillo Che ti riempie Ti dà molte soddisfazioni Oddio Molte soddisfazioni Un cazzo Non è affascinante Non è affascinante Sta roba Lo so che lo ripeto sempre Raga Ma quanto minchia è bello C'è Dalle in mezzo alle macerie Di una città Praticamente distrutta C'è un cazzo di saloon Messo lì C'è il venditore Cioè è bellissimo Raga è bellissimo Non so come spiegarvelo E poi avevo visto qua Che c'era altre robe C'era tipo Forse rnc Messa lì Vedete che qua ci sono Tipo i sacchi Vediamo in questa casa distrutta Che si può entrare C'è un piano di sopra Ci sono delle ossa Oddio Olodisco mercenario Messaggio sull'olodisco Siamo rimasti isolati Dal resto del plotone Ci sono legionari ovunque Vabbè Possiamo immaginare già Che fine ha fatto Prendi cappello da mercenario Minchia Dammi il fuggire da ordinanza Vediamo in che condizioni è È messo malissimo raga Ma male male tipo Il cappello da mercenario pure Vabbè ma qua Gli hanno Gli hanno freddati Ci sta Qua è vuoto Dobbiamo parlare Penso con lui allora Abbiamo un problema Con alcuni great can Ora I superiori al mccarran Mi hanno ordinato Di bloccare le rovine Finché non sarà risolto Ok Cosa posso fare Cosa succede Posso farti qualche domanda Vabbè Che cazzo succede Perfetto Dai dai vi diamo una mano Questi can potrebbero avere qualcosa Che mi appartiene Un platinum chip Che i great can sono stati uccisi O catturati Puoi recuperare Qualsiasi cosa Ti abbiano preso Perfetto Grazie Potrei arruolarmi E cercare di far uscire i tuoi Se li liberiamo Il resto della mia squadra Interverrà con fuoco di copertura Perfetto Bene Preparati a coprirmi Una volta che li ho liberati Devi aspettare Finché non è più scuro Va bene Ottimo Missione aggiunta Perfetto Questa cosa ragazzi Interessa Perchè i great can sappiamo Che sono appunto Chi è che ci ha sparato Libera i soldati Delle rnc Signori io non so se fare Questa missione Nel prossimo episodio Così non vi rendo Un episodio troppo lungo Quindi eventualmente Noi per questo episodio Ci salutiamo qui E nel prossimo episodio Andiamo a liberare I great can Qua libera i soldati Perfetto Quindi da parte mia Di Veronica Noi ci salutiamo E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Con Fallout New Vegas Mi raccomando di supportare Questa serie con un like Ma soprattutto La vostra opinione Un commentino Che a voi non costa nulla E a me fa capire Quanto il gioco vi interesse Alla prossima Ciao bene via Ciao bene via